Quanto è stata dura, attivi di nervosismo per il dato di Lauria e anche la città di Matera che stentava ad arrivare? È evidente perché quando c'è un testa a testa e ti batti contro i colossi diventa complicato, anche tre voti, un voto può fare la differenza. E Lauria e Matera insieme a Potenza e tanti altri comuni hanno dato una grande lezione di democrazia. È stato un testa a testa, poi si temeva che non arrivassero i voti da Matera, da Lauria con i due seggi che vi erano lì. Sì, è stato un testa a testa fino all'ultimo. Penso sostanzialmente che comunque in ogni caso la grande partecipazione che c'è stata è comunque un segno positivo. Vedremo nelle prossime ore, ovviamente leggeremo meglio i dati e faremo una più attenta valutazione. Mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato nel corso di queste settimane. Comunque in ogni caso è un importante risultato che è stato raggiunto e anche questo è il bello della democrazia.